Giornata importante, giornata di festa per BP Cube, incubatore certificato di start-up pesarese. Siamo con Enrico Battistelli, il fondatore. In questa giornata veramente particolare ufficializziamo l'acquisizione di una parte di quote di BP Cube, esattamente il 25% da parte di Med Group Holding. E oggi è una giornata importantissima perché uniamo a Pesaro, chiaramente una città come quella di Macerata, che lega Med e lega la famiglia Parcaroli in tutto quello che hanno fatto loro, nella loro spinta e nella loro ricerca continua per l'innovazione. Per me è importantissimo perché la regione Marche ha sempre di più questa visione di innovare, di fare qualcosa di nuovo, di lavorare per le start-up e a favore delle start-up. e questa giornata oggi può in qualche modo mettere un sigillo su quello che la regione farà proprio in questo ambito. Per BP Cube sarà un volano importante, commerciale innanzitutto, ma un volano soprattutto che punterà nell'innovazione e insieme a noi per poter raggiungere quei territori che per noi erano magari più difficili. Pensiamo a tutto oggi il territorio nazionale che chiaramente è già pieno, non pienissimo, ma comunque ha multiplayer anche nella parte nord del nord-est del territorio nazionale. Noi da soli magari potevamo avere difficoltà a interagire con tutto il territorio nazionale. Oggi non è più così perché oltre alle Marche chiaramente la vision è quella di agire a carattere nazionale, quindi a livello molto più allargato e perché no con anche la volontà di agire anche in tutta Europa. Come mai Med Group Holding si unisce a BP Cube acquisendo il 25% delle quote? Sì, la mia holding della mia famiglia da anni, da oltre 40 anni, investe in tutto ciò che è innovazione. L'abbiamo fatto in questi anni con le grandi aziende del gruppo, con la Med Computer, il marchio Med Store, con la Med System che lavora nel mondo dell'enterprise. L'innovazione però non è solo tecnologia, l'innovazione per noi è anche investire in aziende che fanno innovazione a 360 gradi. Quindi vogliamo portare il nostro know-how, la nostra esperienza anche in questo mondo, andando a dare il nostro sostegno, il nostro supporto grazie a BP Cube, ha tantissime nuove start-up che nascono sul nostro territorio, che hanno bisogno quindi di supporto consulenziale, ma anche tecnico, anche delle spalle su cui poter contare nello sviluppo della loro impresa. Ovviamente BP Cube non è solamente incubatore, ma è anche in consulenza e formazione per le aziende, quindi in tutto questo mondo noi ci ritroviamo a pieno e siamo felicissimi di entrarvi a far parte.